Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto finalmente il video su quelle che sono le tattiche per quanto riguarda il 4-2-3-1 post patch. Sì, 4-2-3-1 perché in seguito a quello che è stato l'update rilasciato da EA Sports in questo fine settimana di torneo amichevole tra pro in vista del torneo online di fine mese più Weekend League ho giocato principalmente con il 4-2-3-1 trovando delle risposte abbastanza soddisfacenti da quello che stavo facendo. Quindi credo che continuerò a testare questo modulo. Ovviamente questo non significa che tutti i moduli visti in precedenza non valgono più. Semplicemente vi sto dicendo che per quanto riguarda l'attuale gameplay io al momento mi trovo meglio così. Tuttavia rimangono validissimi 4-4-2, 4-2-2 eccetera eccetera. Anzi spesso in Weekend League, soprattutto nelle partite un po' più aperte, passavo al 4-4-2 per creare magari maggiori grattacapi ad avversari che erano bravi a difendere un'unica punta in area di rigore. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere andiamo a vedere le tattiche, andiamo a vedere anche una prima panoramica, un mezzo spoiler su quella che è la squadra che ho utilizzato questa settimana. Solito e tipico cambio di scena, eccoci qua. E come potete vedere, prima differenza che salta all'occhio è quella relativa a ampiezza e profondità. Difatti per quanto riguarda le tattiche precedenti, anche quelle relative al 4-4-2, mi avete visto utilizzare ampiezza 5 sì, ma una profondità molto più bassa, ossia 3. Stavolta invece vedete una profondità molto più alta, vedete profondità 6. Vi vado a spiegare il motivo di questa scelta. Il gameplay avete visto tutti che è estremamente rallentato. Questo che cosa comporta? Mio personale parere ovviamente. Che è meglio difendere un po' più alti rispetto che un po' più bassi, perché qualora la vostra squadra si schiaccia troppo e dovete difendere in area di rigore, determinate situazioni diventano dei veri e propri rattacapi. Magari quell'1v1 dell'attaccante con 5 skill molto agile, con il vostro difensore, e sia questo anche magari Van Dijk, vi può causare un problema, perché si sa, una skill di qua, una skill di là, una finta di tiro, un drag back, con un semplice movimento con la levetta analogica a sinistra, e andate facilmente a vuoto, il vostro avversario tira e probabilmente segnerà. Di conseguenza, secondo me, meglio tenere la linea difensiva un po' più alta, cercare di difendersi al limite dell'area di rigore, cercare di recuperare palla un po' più alti, questo anche perché diventa poi un vantaggio nell'andare a costruire la manovra offensiva. È ovvio che recuperare il pallone alti vi permette di poter ripartire con più incisività. Quindi, ampiezza che io vado ad utilizzare, 6. Ovviamente, sono consapevole che è uno stile di difesa aggressivo, che probabilmente, intanto ringraziamo il cane per i vari abbai, che i dei canini ti abbiano in gloria. Va bene, lasciamo perdere. Comunque, dicevo, è chiaro che è uno stile difensivo un po' aggressivo, che magari a qualcuno potrà andare storto all'inizio, però, regà, non disperate se perdete 1, 2, 3, 10, 100 rivals, alla fine è tutta una questione di pratica, di abitudine, eccetera, di adattarsi a quello che è il nuovo stile, che secondo me è più efficace al momento rispetto a uno stile di difesa più passivo. Ovviamente un ruolo chiave è giocato anche da quello che è l'apporto che i mediani vanno a dare alla manovra, come poi andremo a vedere in fase difensiva. Per quanto riguarda, invece, lo stile d'attacco e di difesa, rimane invariato, equilibrato. Passando all'ampiezza, anche qui, l'altra volta, mi avete visto utilizzare un parametro un po' più basso. Stavolta, invece, con il 4, 2, 3, 1, vado ad utilizzare 6 di ampiezza e 6 di giocatori in aria. Questo perché il 6 di ampiezza mi permette di sfruttare il classico gioco fascia interno, interno fascia, fascia interno, eccetera, per cercare di trovare il varco giusto, cercando di aprire quella che è la difesa del nostro avversario. Quindi, lo sapete, palla lunga, sull'esterno, passaggini con molta pazienza, e cercare poi l'imbucata centrale per la punta, che deve cercare di concludere girandosi. Per quanto riguarda giocatori in aria, abbiamo 6, e questo poi si sposa anche con quelle che sono le istruzioni che andiamo a vedere dopo, perché, ovviamente, il 4, 2, 3, 1 è un modulo che un po' in questo caso è deficitario, perché la sola punta in aria di rigore magari rischia di farvi diventare prevedibile, ma allora entrano immediatamente in soccorso, grazie a questo parametro, sia il COC, che praticamente mi ha fatto una quantità di golli incredibili, perché praticamente diventa una seconda punta, sia COD e COS, che si buttano ad attaccare gli spazi sull'esterno dell'area e a creare ulteriori varchi. Per quanto riguarda angoli e punizioni, abbiamo 2-2, ma potrebbe diventare anche 1-1 per cercare di evitare di prendere contropiedi inutili su punizioni e calci piazzati per l'appunto. Per quanto riguarda le istruzioni, abbiamo anche qui delle novità, perché, sebbene per quanto riguarda terzini e mediani, abbiamo il classico resta dietro in attacco per i primi e resta dietro in attacco e copri al centro per i secondi, iniziano le novità a partire dal COC. Difatti a Neymar vedete che ho rimani avanti, ma stavolta gli ho dato svaria e non rimani in posizione. Questo per favorire proprio l'ingresso di Neymar e del COC in area a dare una mano alla punta. Qualora invece voi andate ad utilizzare e rimane in posizione, il COC rimane ancorato in posizione centrale e perde quella sua, diciamo, imprevedibilità che, appunto, lo fa diventare un facile punto di riferimento qualora voi non gli andate a mettere questo attributo. Per quanto riguarda COD e COS, andiamo ad utilizzare, entra in area per il cross su entrambi, questo sempre per quanto riguarda il discorso precedente, di andare ad attaccare gli spazi con quanti giocatori più è possibile, in modo tale da cercare di aprire le difese degli avversari dominati da CPU autoblock al momento, e poi abbiamo la punta, alla quale invece ho lasciato inseriscita alle spalle, perché deve aggredire assolutamente la profondità. Un'ulteriore questione, della quale voglio andare a parlare, che ho testato, è l'utilizzo di una tattica, chiamiamola così, che si applica andando a schiacciare freccetta in giù, quindi si apre quella schermata con fuorigioco, pressing, eccetera, e poi freccetta in su, ossia ripiegamento attaccante. Con questa impostazione, che io vi consiglio di mettere soprattutto quando dovete andare a difendere il risultato, anche se c'è qualcuno che la utilizza, anche da inizio partita, appunto l'attaccante rinculerà sulla linea dei centrocampisti il più possibile per dare una mano in fase di pressing, quindi anche in fase di non possesso palla, ed è un'impostazione a mio avviso molto utile. In una variante più difensiva, qualora appunto volete proprio mettere il bunker per difendere il risultato, potete pensare anche di andare a mettere al COD, al COS, rientra in difesa, cosa che io però non faccio al momento, perché altrimenti spesso e volentieri l'esterno, in questo caso, si trova troppo dietro e causa dei problemi alla ripartenza che diventa troppo lenta e prevedibile. Quindi, piuttosto che un ripiega, io opterei per queste due scelte qualora dovete andare a difendere il risultato, perché con ripiega la squadra mi si schiaccia troppo. E nulla, raga, io con queste tattiche mi sono trovato abbastanza bene, vi ripeto, c'è anche la partita che ho disputato contro Megabit che ne è un esempio lampante, continuerò a testarle, continuerò a fare modifiche fino a quando non sarò soddisfatto al 200% e avrò trovato la quadratura perfetta del cerchio. Cercherò anche di trovare delle nuove tattiche per il 4-4-2 e di testarle a modo e appunto poi quando sarò pronto ve le mostrerò, perché infatti questa settimana in live vi dicevo sempre, raga, sto testando, non ve le dico ancora, perché poi se vi davo delle tattiche, diciamo, fasulle, avreste voluto linciarmi in piazza pubblica, non avrei mai voluto, avrei fatto la fine di Riberoschi d'arco. E niente, quindi per questo video qui è tutto, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se già avevate adottato delle soluzioni di questo tipo, mi raccomando, like e commento, non ve le dimenticate mai, io vi auguro una buona giornata, ci vediamo tutti i giorni in live, raga, lo sapete, e niente, ciao ciao!